Non sopporto più di essere toccata da loro, sì sì sì, sono i pochi, falsi, lei non mi voleva bene, no non mi voleva bene, ora lo so, sì ora lo so, come gli amori d'Ottavia, ma Ottavia ha il coraggio di mandare via Rodrigo, io no, ma chi è Ottavia? Ottavia è Rodrigo, fa così, ma lei la saccerò, mi amori d'Ottavia, io no, io non ce l'ho questa porta, ma così ce l'ho, ma non ce l'ho, vogliamo continuare o no? E poi mi tradiva, sì, io sono stato con quante donne mi tradiva, faceva l'idraulico e quando andava a casa delle donne trovava tante signore e solo e approfittava di loro. Lo chiamavano il mandrillo idraulico. Sussusa. Gli uomini pensano soltanto a una cosa. Posso sentirli mentre mi guardano, anzi ma no. Sussusa. Si eccitano. Sussusa. Mi spogliano con i loro sguardi. Sussusa. Gli uomini sono tutti così. Sussusa. Che bravati. Che bravati. Sì, vieni ce la faccio, ce la faccio, guardi ce la faccio. Bravo, bravati. Sussusa. Ma chi è? Ma chi è? Ma chi sei? Maria? Maria? Ma chi sei? Sì. Ma mette paura a Maria? Ma chi è? Ma chi è? Maria? Ma inizia paura di quello che viene, questo? Ma chi è? Ma chi è? Ma che sei tu? Che è questo? Sarai! Chi sei Giovanni? Che ho fatto? Ah, ma bravo! Io vengo qua sopra per parlare con la dottoressa! La mia dottoressa! Avete una pepina durata! Non so! Io vengo qua sopra per parlare con i signori! La mia dottoressa in te! Voi mi fate trovare questo modo a te! Ma questo è Giovanni! E' un paziente come Maria! E' come fate parlare? Sono paziente! Ecco, apri! Quella sei tu su dentro non vado! No! Maria apri! Qua chi non si soffra? Maria apri! Maria apri! Eeeh! Lei mi ha detto a me! E lei ha detto a me! Qua ditto! Dai! Maria! Maria! Quella dobbiamo fare uscire? Vabbè! Quella succede così perché da qua si è lasciata confidenzata! Appena ha paura si mette in luoghi chiusi ai spugli! Però so io come parlare! E' un po' di scegliere! Ma che cosa è? Ma che cosa è? Ma che cosa è? Per me è un po' di scegliere! E ho raggiunto! E non c'è! Posso parlare? E grazie! E non c'è! 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 Allora dottore! E io... Io so come panno a parlare le scelue! E, guarda! Ci mettono la sua canzone preferita! sono un po' confusa questa è la canzone che piace a Maria così si rilassa Maria i quadri che si filma Maria la senti? questa è la canzone che piace a Maria Maria ma devo uscire da qua dentro per piacere ma quello non esce perché da quanto è successo questo fatto? lei praticamente ama soltanto sentire queste canzoni dolci, feliosi, vedere film d'amore e poi guindale guindale te ne lo veras non lo voglio qui vicino, ho paura paura? ma questo è Giovanni, un paziente come te non ti preoccupare, non ti farà alcun male garantisco io non ci credo, quello è un maniaco sessuale eh sì ho visto quel mozzo che ha nelle mutande che mi vuole facere? un goniglio? no no no, fatelo andare via oppure datemi il mio sacchetto un goniglio nelle mutande? eh sì perché ha avuto la brutta esperienza di un prestigiatore un uomo prestigiatore? eh Maria ma non ti preoccupare garantisco io per lui io esco ma il sacchetto non lo deve mettere lui è senza buchi ma perché mi ha già mettere il tuo sacchetto? scusate se non mi vede non mi potrò fare del mare ma che devi fare del mare? non ti preoccupare Maria ma che ti devi fare del mare i sacchetti e i penchini? eh dai mi ci rubo il cazzotto in capo padrone si fa del mare se serve per farlo uscire mettiti il sacchetto non mi avvicinate troppo che mi fa l'impressione ti piacesse? Maria Maria vai esci edda esci ma non ti puoi uscire Maria la rossa la rossa Maria edda esci tu devi reagire tu non devi fare così con il tuo tu devi reagire tu devi guardare i baci e ti riagire capito Maria? ah non mi dico non ci stai niente oh oh che psicologo sono qui ah non posso ma non ci puoi indagliare ma non mi fai male capo idda ma non mi fai male capo ma non mi fai male capo vado a prendere le valigie vado a prendere le valigie che stanno giù capito e mi lasciate solo con Maria ma non ti fai ma chi ti sentono questi? ci viene il collo e ci do un calcio all'a ho fatto adesso ma trova però questo tiene le mani troppo lunghe le mani troppo lunghe no 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 dobbiamo trovare ah ho trovato ho trovato devi battere le mani capito? devi battere le mani fin quando lo zango io qua sopra capito? e così non ti tocca mi raccomando mi raccomando fin quando lo zango io qua sopra si 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 ti mette pausa grazie grazie grazie